Seconda uscita pubblica del Comitato per la Salvaguardia del Verde Cittadino, costituitosi sul caso del taglio degli alberi a Vallo della Lucania, per sabato 26 novembre alle 17 presso l'ex convento dei Dominicani, ha organizzato un incontro a cui prenderanno parte diversi esperti, tra cui l'agronomo Pietro Filippo De Luca e il dottore Augusto Lenza del Copat, il Comitato Ambiente e Territorio, nato nel 2011 per tutelare l'integrità ambientale e il patrimonio del Parco Nazionale del Cilento. Nella giornata si discuterà proprio dei tagli agli alberi che hanno fatto indignare la popolazione vallese e si promuoverà l'iniziativa che consente al singolo cittadino di adottare una pianta illustrando qual è l'iter che deve essere intrapreso. Questo per sensibilizzare ancora di più la popolazione ma anche per dare una risposta a quanti sono stati colpiti dal taglio del verde pubblico deciso dall'amministrazione Aloia. Il comitato già domenica scorsa aveva con un gazebo in piazza Vittorio Emanuele informato la gente su quanto accaduto in questi mesi. Il gruppo di cittadini infatti si è riunito in comitato dopo che una decina di alberi è stata rasa al suolo alla radice nel quartiere Spess lungo il percorso fitness del Parco Stella del Mattino. Si trattava di abeti, pini e cedri che da decenni facevano da contorno alla scuola materna Luinetti. Il taglio è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso visto che già altri alberi erano stati sacrificati nelle vicinanze della caserma della forestale presso i campetti da tennis. Vallo ha il cuore verde di Bile, ha scritto il comitato in un manifesto. Gli alberi al Parco Spess, si legge, erano perfettamente sani e ben saldati al suolo, non risultavano infestati dalla processionaria, come si era detto in un primo momento, una circostanza di fatto constatata al momento del taglio dagli abitanti del quartiere e da un esperto agronomo. Allo stato attuale, continua il manifesto, l'amministrazione non ha fornito alcuna giustificazione, nessun atto preventivo è stato adottato, nessuna ragione di somma urgenza è stata rappresentata per legittimare uno sconsiderato taglio. In passato, in un caso di attacco di processionaria, è stata correttamente eseguita la procedura che prevede la certificazione dell'agronomo e la putatura dell'albero. Insomma, per il comitato non bisognava procedere al taglio, neppure in caso di infezione. Adesso basta, si legge alla fine nel manifesto, non c'è nessuna necessità di privare la comunità vallese del verde pubblico, chiediamo al sindaco di sapere chi ha adottato il taglio e con quali motivazioni e quali interventi riparatori l'amministrazione intende assumere. Un discorso questo che sarà ripreso e ampliato nell'incontro del 26 novembre.